Ovvio. Certamente, questa è la prima cosa e penso che una serata del genere ci potrà aiutare anche a ricordarlo insieme ai suoi amici, suoi colleghi di una vita, insomma. A proposito di ricordi, qual è quello più importante che ti lega a tuo papà? Sono tanti. L'amore per il cinema da quando siamo bambini entrambi, con tutta la famiglia ogni volta al cinema. Ancora un po' il cinema si è perso di andarla a vedere. E niente, ce ne sono milioni, milioni davvero. Ho fatto capire quanto è bella la vita, proprio vivere la vita sul serio. Non viverla passivamente, ma attivamente. Per te, Emanuele? Io ce ne sono molti ricordi, proprio l'ultimo di 4-5 mesi fa, quando siamo andati a vedere il Milan, perché vabbè, a parte appassionati di cinema, ma anche di calcio, qui a Firenze, proprio, e eravamo a vedere il Milan, così, dopo tanti anni che non andavamo, è stato l'ultimo ricordo che abbiamo vissuto proprio insieme al 100%. Questo.